Dopo le tre sale scommesse chiuse nei giorni scorsi, due a Sive e una a Roseto, la Questura chiude altre dieci sale scommesse. I provvedimenti sono a firma del questore, dottor Giovanni Febo, sulla scorta delle indagini portate avanti dagli agenti della divisione Polizia Amministrativa della Questura di Teramo, diretti dalla dottoressa Rosalba Angeloni. Con la legge di stabilità del 2015 era stato previsto un sistema di regolarizzazione di sanatoria a cui questi centri scommesse non hanno delito. Gli esercizi chiusi dal questore sono tre a Martinsicuro, tre ad Alba Deriatica, uno a Giulianova, una a Colonnella, uno a Mociono Sant'Angelo e un altro a Civitella del Tronto. Ne sono emerse circa un'ottantina, irregolari, i controlli non sono terminati e adesso ci sarà sicuramente un momento di alleggerimento per via del periodo estivo, quindi non siamo nel pieno delle forze, però dovranno riprendere necessariamente perché comunque i nostri atti dimostrano l'irregolarità e quindi l'illegittimità dell'attività che viene esercitata, che peraltro è stata anche deferita all'autorità giudiziaria. Quelle chiuse sono sale scommesse che pur potendo non hanno aderito alla normativa di regolarizzazione e continuando a svolgere l'attività di intermediazione abusivamente. Dottoressa, c'è chi non si adegua al provvedimento del questore, c'è chi addirittura non chiude, cosa succede a quel punto? Sì, c'è questa pervicacia all'inosservanza della normativa, è stato anche riscontrato proprio da ulteriori controlli occasionali che sono emersi e niente, quindi in questo caso si procede di nuovo al deferimento all'autorità giudiziaria per inosservanza dell'ordine dell'autorità di pubblica sicurezza. Grazie.